Ci sono delle persone che sono estremamente fisiche, hanno bisogno di esprimere i sentimenti che provano attraverso il corpo, un abbraccio, una stretta di mano, un sorriso, la loro fisicità, il loro modo di celebrare la relazione. Ci sono persone che hanno bisogno di parlare, di verbalizzare, di dire, di rendere in parola quel che stanno vivendo dentro la loro vita. Ci sono altre persone che hanno bisogno di capire, di mettere ordine nei propri ragionamenti, di riuscire a trovare una logica della grazia di Dio nelle contraddizioni della nostra esistenza. Ci sono altre persone che hanno bisogno di ritrovare un ordine del cuore, un ordine dei sentimenti, delle proprie emozioni. Noi possiamo pregare con il nostro corpo, con le parole, con i nostri pensieri, con i nostri ragionamenti, con i nostri sentimenti, le nostre emozioni, quello che si muove dentro ciascuno di noi. E nessuno può dire che c'è una preghiera che è migliore di un'altra. Se quella preghiera esprime una relazione, allora è preghiera autentica. Quante volte ci mancano le parole? Soprattutto quando soffriamo, quando viviamo qualcosa di difficile, abbiamo come un nodo alla gola, un'incapacità di comunicare, di parlare, l'incapacità di aprire il cuore, di poter raccontare, verbalizzare. Il male ci toglie le parole. Quando cominciamo a meditare, a pregare, cercando di mettere ordine nei nostri ragionamenti, come il male si insinua in quei ragionamenti. Molto spesso il male ci dà una chiave di lettura sbagliata delle cose. Ci fa percepire Dio come un padrone, come un giudice, Dio come qualcuno di lontano da noi, Dio come uno che non è interessato alla nostra vita, come uno che non esiste. Non possiamo mai giudicare i nostri ragionamenti nella preghiera, la nostra meditazione, se non a partire dai frutti. E certe volte a noi sembra che abbiamo pregato molto, che è stato molto spirituale quello che abbiamo meditato, ma ci ha prodotto angoscia, tristezza, senso di colpa. Non c'era lo spirito lì. C'era l'angelo della luce travestito di luce, ma non era la luce vera, quella che ci salva. Quel territorio pericolosissimo dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni. Vogliamo pregare per sentire delle sensazioni buone, positive. Pensiamo che la pace, la consolazione, sia un'emozione. A volte invece bisogna pregare e si è in compagnia di un sentimento, che è il sentimento dell'assenza di Dio. Pregare in preda all'angoscia, alla tristezza. Quando tutto ti dice che non vale la pena, ti accorgi che in ogni dimensione di questa tua relazionalità, devi combattere. il tuo corpo, le parole, i pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Abbiamo un luogo dentro noi stessi. In questo luogo che è il cuore, esiste una presenza. Ti accorgi di avere un cuore quando ti accorgi che il Dio che stai cercando, che il Dio che stai pregando, non è lontano da te. Non è nascosto sopra nei cieli, ma è dentro di te. Lui ha posto la sua dimora dentro di te. L'inferno della nostra vita è sentirci soli in questa vita. Allora, il lavoro più importante nella preghiera è trovare la strada che ti conduce a questa chiesa che tu ti porti dentro, a questo tempio che ti porti dentro. Arrivare dentro il tuo cuore per accorgerti che Lui è lì, in un modo tale che ciascuno di noi può rimanere libero. La presenza di Dio dentro di noi non è un'evidenza. Devi accorgerti di questa presenza un po' alla volta. Non è in tutto ciò che attira l'attenzione, ma è in qualcosa che ha bisogno di attenzione e il suono di un silenzio. La preghiera del cuore non è qualcosa che facciamo noi, è qualcosa che fa Dio dentro di noi. E noi dobbiamo accorgercene. Se tu vuoi fare la preghiera del cuore, non devi fare niente. Devi permettere a Dio di fare qualcosa dentro di te. Devi liberare il tuo cuore da tutto ciò che ostacola questo movimento che non è il tuo. Non importa se sempre capiamo quello che lo Spirito sta dicendo dentro i nostri cuori. Se ci accorgiamo di questa presenza, la nostra vita cambia completamente. Non soltanto ci rassicura, ma ci evangelizza. Inizia a cambiare, a convertire, a raddrizzare, a consolare, a guarire. Cambia il tuo corpo, cambia le tue parole, cambia i tuoi pensieri, cambia i tuoi sentimenti. E rende il nostro corpo un annuncio, senza dir nulla. Ti accorgi subito di una persona che prega fisicamente da com'è. Ha il loro sguardo. Tante volte noi pensiamo che dobbiamo combattere, convincere, immaginarci delle guerre in cui facciamo delle crociate, dove cerchiamo di vincere a tutti i costi. Il primo luogo dove Dio vuole rendersi presente è il nostro corpo. Se tu impari questa preghiera del cuore, che è lasciare che Dio preghi in te, il tuo corpo viene evangelizzato. Il tuo esserci in un posto diventa il principio di un cambiamento. Le parole. Perché vengono evangelizzate le parole? Quando noi parliamo esprimiamo molto spesso noi stessi quello che ci sta a cuore, quello che pensiamo essere giusto. Quanto parliamo male di noi, quanto usiamo parole sbagliate per descrivere la nostra vita, quanto le nostre parole feriscono chi ci sta accanto. E a noi sembra che le nostre parole siano parole che nascono dallo zelo, da convinzioni religiose, ma quando le parole sono pietre non sono l'espressione del Vangelo, sono l'espressione di frustrazioni che noi esprimiamo anche attraverso dei linguaggi religiosi o delle convinzioni. Chi pratica questa preghiera del cuore si accorge che il Signore gli cambia le parole. Non è importante quanto dici, ma quello che dici arriva lì dove deve arrivare. Attraverso quella forza immensa e tenerissima che è l'amore, perché l'amore dice sempre la verità, ma la dice in un modo che edifica, in un modo che salva, in un modo che genera, in un modo che libera. È il demonio che dice la verità senza amore. Tante volte invece le nostre parole fanno nascere sensi di colpa, chiudono, restringono, dividono, caricano di pesi. E poi i pensieri. Ora da una parte abbiamo delle convinzioni di fede fortissime, ma in realtà il nostro modo di ragionare è ancora un modo di ragionare mondano. La preghiera non ha convinto Dio a farci la grazia, ha cambiato il mio modo di ragionare. Ecco perché è potente la preghiera. Ragionare come ragionava Cristo. Ha cambiato il mio modo di vedere il mondo, di leggere la storia. Ha cambiato i miei pensieri. Penso secondo Dio, che è sempre in polemica con una visione mondana. Evangelizza i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Sentire come sente Cristo. Il nostro cuore che batte all'unisono con il suo. Avere la medesima compassione. Arrabbiarsi per le stesse cose. Gioire per le stesse cose. Quella sintonia che nasce dall'amore. Quando due persone si amano, cominciano a vivere all'unisono. Sentono le cose nella stessa maniera. Il mondo ha bisogno di gente che prega. Così. Cioè di gente che ha capito che la preghiera cambia il mondo perché cambia noi. Che questa presenza di Dio non è semplicemente la fatica di dire delle parole, di imparare delle formule, di pensare che abbiamo trovato una tecnica che possa salvarci. Il tentativo umile di coltivare quell'attenzione che ci fa accorgere è che dentro il nostro cuore c'è una presenza che vuole espandersi, che vuole evangelizzare, che vuole trasfigurare tutta la nostra vita. Noi preghiamo affinché il Figlio si manifesti dentro la nostra vita. E possa accadere per ciascuno di noi quello che Gesù dica di se stesso. Chi vede me vede il Padre. E noi con questa santa presunzione dovremmo dire chi vede noi vede Cristo. Qual è la strada? Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Chiama per nome quella presenza che c'è dentro ciascuno di noi. Quando un bambino che ha paura del buio si trova nella sua stanza, chiama il papà, chiama la mamma, lo chiama. Il chiamarlo lo rassicura che dall'altra parte c'è qualcuno che gli risponda e gli dica dimmi. Il buio è buio. Ma la sua parola chiama una presenza. In ogni istante della nostra vita, dove tante volte noi sentiamo di essere al buio, di non vedere vie di uscita, di non capire perché ci capitano certe cose, di non sapere in che modo possiamo affrontare alcune cose difficili della vita, chiamare questa presenza e sentire che questa presenza risponde alla nostra chiamata. Signore Gesù, è lui che risponde dentro di noi eccomi. Allora diminuiscono le parole, calano tutte le tecniche, tutto diventa semplicemente un atteggiamento di attenzione del cuore dove qualunque cosa tu stai facendo, stai lavorando, stai parlando, ti trovi in cappella, ti trovi al lavoro, ti trovi in una situazione difficile, c'è una parte di te che continua a tenere la mano stretta a questa presenza che abita dentro di te e questa è la tua forza e questo vince il mondo. spero che ciascuno di voi senta questa sera il desiderio non di capire la preghiera ma di pregare, di trovare questa strada che lo conduca a questa presenza, di dire che sarebbe disposto a rinunciare a tutte le grazie che ha chiesto fino ad oggi pur di avere questa presenza. Se tu sei qui, Signore, se tu sei presente, tutto è possibile ma se tu non ci sei tutto è un pagliativo, tutto è un problema che si risolve e poi se ne presenta un altro, un altro ancora. Le persone che vivono così, che hanno ritrovato questa via del cielo attraverso il proprio cuore, sono i più grandi evangelizzatori perché rendono presente il figlio così come il figlio rendeva presente il padre. Il mondo ha bisogno di vedere Gesù, di toccarlo, di sperimentarlo. Gesù non ha bisogno di essere spiegato, ha bisogno di essere mostrato e l'unica maniera che noi abbiamo di mostrare Gesù siamo noi. Non c'è altro modo ma non basta il nostro sforzo. Anche questa è una grazia e la bellezza, la difficoltà di una grazia sta proprio in questo. Bisogna essere umili per accettare i doni. Chiediamo al Signore quella giusta umiltà per poter domandare la grazia di poter pregare e sono sicuro che il Signore non può negarci una simile richiesta. Grazie. 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 Grazie.